Questo lavoro presenta una novità nell'ambito delle analisi statistiche sul territorio? Sì, per molte ragioni. La prima è che metta insieme tutti gli aspetti, tutte le dimensioni della conoscenza al momento in cui viene prodotta e poi al momento anche in cui viene usata e trasmessa. E quindi offre agli studiosi un panorama a 360 gradi su questo tema e lo presenta in maniera tale che sia fruibile, è un ebook da tutti senza limitazioni. Io ho avuto delle suggestioni in particolare per quello che riguarda la trasmissione della conoscenza tramite le università perché lavoro all'università come docente e mi sento di dire che proprio in questo luogo così ricco di storia e di trasmissione anche di conoscenza, mi sento di dire che abbiamo da lavorare parecchio.